amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fanta calcio prepariamo insieme alla giornata numero 9 di serie a giornata fondamentale come sempre imprescindibile per noi amici del fanta calcio per cercare di portare a casa questi tre punti fondamentali nel nostro percorso di vittoria percorso che si interromperà poi a novembre quindi dobbiamo essere bravi a mettere un po di piene in cascina oggi un format nuovo per quanto riguarda la preparazione non le classiche prove informazioni ma un format che va a dividere un po i giocatori per slot per fasce quindi abbiamo messo quattro fasce giocatori che sono appunto imprescindibili le sicurezze il rischio a tutto e poi potenziali bonus stiamo ad analizzare slot per slot per capire dove sono situati i vostri giocatori per capire se appunto ci sono possibilità che questi giocatori facciano bene sperando che appunto il meglio di questi giocatori vada poi a incidere in un complessivo montepremi veramente alto livello di totalizzatore di punteggio di giornata quindi un grazie di guarda a tutti voi che vi seguite con tanto affetto vi ricordo di fare come sempre un po di passaparola al canale del veterano perché appunto sta crescendo veramente molto molto bene sono molto contento ma chiaramente non c'è mai limite al meglio quindi abbracciamoci forte per stingerci sempre di più intorno al veterano e alla famiglia del veterano partiamo dagli imprescindibili quindi quei giocatori che sono di fatto se li abbiamo in rosa sempre da schierare sono tanti nomi ma tanti nomi molto molto interessanti anche le partite sono in certi casi la loro portata analizziamo partendo dalla porta dove ho messo due giocatori di fondamentale importanza come provvedere lui patriso quindi giocatori delle squadre romane che tanto bene stanno facendo soprattutto provvedere consigliatissimo da veterano di voi l'hanno preso e sono contento perché l'hanno acquistata con prezzo medio basso anzi direi anche basso e quindi il pacchetto lazio che era ambito visto che salvi gioca molto bene fase difensiva l'anno scorso è stato un episodio il fatto che sarebbe se preso tantissimi gol e quindi quest'anno fortunatamente tanti l'hanno preso il pacchetto lazio stanno godendo appieno lui patriso invece atteso in casa da lecce non un match semplice chiaramente la moriglia varrà blindare in tutto e per tutto la sua difesa e portare a casa un altro clean sheet per quanto riguarda dei portieri portoghese in difesa nomi altisonanti di marco hernandez i bagnes mario rui romagnone smolling e kim tanto napoli in questo caso atteso dalla trasferta a cremona ma questo napoli visto in trasferta appunto contro l'ajax alla cui farena ha dato spettacolo dalla spettacolo anche sicuramente a cremona quindi kim e mario rui sono sicuramente giocatori imprescindibili in questo napoli ha fatto molto bene di marco anche se in ballottaggio contro con con gosses per un ruolo d'esterno sinistro contro il sassuolo i bagnes da schierare così come smolling in casa contro il lecce e poi romagnoli sempre in casa lazio per dare manforte al suo reparto difensivo e poi ritornate ornandez nel big match contro i ventus matteo ornandez chiaramente imprescindibile nelle vostre formazioni al centrocampo ancora tantissimo napoli addirittura tre anghi sa quara scelta e zinischi attenzione però perché su zinischi e quara scelta c'è qualche dubbio di schierabilità visto che appunto sono in dubbio fino all'ultimo mentre anghissa a centrocampo è dominante in tutto e per tutto quindi a schierare comunque anche in assenza di bonus ma la volta scorsa ha fatto due gore quindi attenzione massima al giocatore appunto numero 99 del napoli quindi massima attenzione al zambo anghiss è poi l'uomo copertina e sergente melinkovic savic per distacco il miglior centrocampista d'italia e quindi assolutamente a schierare sergente senza se e senza ma in attacco leao abraham arnauto vic immobile bravice di bala attenzione perché immobile ancora un po in dubbio leao è comunque da schierare anche nel big match contro la juventus arnautovic si attende un gol finalmente nuovamente dell'austriaco anche se il match contro la samp del neo allenatore stankovic non sarà certo un match semplice blaovic ancora in gol sia in champions che in campionato quindi da schierare anche lui come leao nel big match contro il milan e poi di bala e abraham in casa contro lecce sono giocatori assolutamente da schierare indubbiamente per quanto riguarda appunto la prossima giornata di serie a passiamo poi alle sicurezze ai sicurezze che appunto ci daranno tanto tanto aiuto per quanto riguarda il nostro fantacalcio sicurezza sono quei giocatori che potrebbero anche non andare a bonus ma che possono garantirci mediamente un voto buono ma comunque anche fase d'attacco sono giocatori che possiamo andare a schierare tranquillamente partiamo proprio dall'attacco dove abbiamo messo beto girù e martinez lautaro potrebbe andare in bonus indiavolato contro il barcelona quindi se tende un più tre per quanto riguarda il toro girù anche egli deve ritornare al bonus chiamato un po gli straordinari visti ancora l'assenza di orighi quindi girù sicuramente atteso nel big match contro la juventus a fare molto molto bene francese poi beto beto attenzione perché atteso da un match complicato contro l'atalanta ma beto può andare ancora in bonus a centrocampo barella con minas robot capirella l'ovrici samarzi giacagni e costi c'è anche qua tanto a udinese in questo caso attenzione a barellino che può andare in bonus attenzione con minas match delicatissimo attenzione per era l'ovrici samarzi c'è udinese veramente in forte hype probabilmente questa non la vincerà ma attenzione soprattutto a samarzi perché sta facendo innamorare anche tanti giocatori tanti fante naturi che non pensavano fosse così forte se vi ricordate nessuno samarzi ci siamo espressi già addirittura nell'estate del 2021 quindi massima attenzione al talento tedesco attenzione massima attenzione anche a kostic perché può comunque andare ancora in bonus e poi nuovo iniesta e lo botte che è in mezzo al campo che fa veramente tanta tanta classe per lui in difesa od oggi bastoni simone beccao bichol demirale di lorenzo doghe dan frise mazzocchi parisi racmani scavini toloi in questo caso sono giocatori che mediamente possono anche non andare a bonus ma che garantiscono un buon voto per i modificatori difesa quindi da tenere con grande attenzione ne va questi fantacalci come potenziali giocatori da schierare quindi questi sono tutti i nomi molto molto buoni per il prossimo turno attenzione poi ai giocatori rischia tutto rischia tutto perché sono giocatori che possono sono attesi da parte un po complicate sono giocatori che sulla carta possono andare in bonus un po in maniera inaspettata o comunque fare fare molto bene a livello anche di prestazioni partiamo dalla porta in questo caso partiamo da vicario atteso dal match contro il torino torino empoli quindi un match non semplice terreno gioca molto verticale ma vicario ci ha abituato a dei match veramente entusiasmanti a un'ottima media voto quindi perché no schierarlo per quanto meno magari puntare a un buon voto anche a livello di modificatore difesa in difesa vi ho messo dei nomi che mi piacciono tantissimo vi ho consigliati tutta l'estate come valeri come caluro come gossens come occorre soprattutto coli e valeri giocatori abbastanza inaspettati valeri chiaramente aspetta atteso dal match contro il napoli non un match semplice quindi si può schierare ma attenzione massima ancora zero insufficienze per lui ma comunque va schierato così come coli in grande crescita attenzione a carulo e agosto questi sono veramente dei rischi a tutto costa si potrebbe anche far ripetare di marco quindi può essere sicuramente schierato al centrocampo messo tosvet diaz puzzle c'è la nostra pezza decchete la rivi lena perché ho messo questi nomi torsvet ha fatto molto bene gole assist l'ultimo match in casa contro la serenità atteso dal match contro l'inter non un match semplice ma comunque il giocatore nordico va sicuramente schierato così come barren diaz potrebbe entrare a partita in corso dalla quella fiammata necessaria per il mina contro la juventus darò un po di luce al centrocampo rosso nero così come decchete era un po annebbiato ultimamente bilena può tornare a bonus in casa contro appunto in casa per cercare di portare a casa contro il verona dei punti importanti per la salvezza e poi l'uomo copertina strepezza atteso appunto dal match contro la roma in trasferta non sicuramente un match facile ma sicuramente la portata del forte forte c'è una pista leccese poi passa del cesoriano soriano atteso finalmente un buono lo speriamo con tanta ansia così come passerice nonostante pochi minuti che io concede gasperini ha in attacco se sai in zona in questo caso se sai segue le orme di strepezza mentre per quanto riguarda anzola atteso a una ribadire in bonus finalmente quello che ha portato l'ultimo contro la sandoria in casa quindi sicuramente atteso da bonus importanti il numero 18 dello spezia chiudiamo con i giocatori che a mio avviso potrebbero rientrano nelle categorie di prima quindi ne rischia tutto né sicurezze e ne appunto imprescindibili ma sono giocatori che potenzialmente potrebbero avere dei bonus questa giornata aveva messi più o meno in ordine spinazzola in difesa potrebbe andare a bonus come assist c'erano potenziali più tre o più uno così come raddoni c'è sensi potenziale più uno del monza anderson felipe contro la fiorentina in trasferta può fare sicuramente molto bene sicuramente può andare a bonus politano dello feo e cercare di portare bonus importanti soprattutto politano e di rotevo come assist e mi attendono più tre dall'ex di turno murel in casa contro l'udinese e raspadori dopo la doppietta alla cruifarena quindi sicuramente gasatissimo così come è casato sarà sanabria in casa contro l'impoli così come sarà molto casato anche il look man attenzione a blasi c'è del torino in casa contro l'impoli un match alla sua portata così come quello di dia che vuole tornare un po bagnare le polveri dopo appunto che si sono un po interrotte mini che pionte che i giocatori polacchi per chiudere questa analisi e possono portare sicuramente molti molti bonus soprattutto è un buon pionte che lo attendo perché è un po di tempo che manca all'appuntamento con il bonus spero che questo tipo di video vi sia piaciuto un abbraccio a tutti voi ragazzi buon fantaccio a tutti a presto dal veterano ciao ragazzi grazie mille 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 Grazie a tutti